Allora, signori cari, le opinioni nel calcio sono una grande partita a carte. Ognuno dice la sua. Io a volte non sono d'accordo con alcune opinioni, moltissimi non sono d'accordo con le cose che dico io. Il gioco delle opinioni è un gioco in cui nessuno dà le carte. Il gioco delle opinioni è ognuno butta la sua carta. E quindi, dalle opinioni da cui non sono d'accordo, trago spunti per fare le mie riflessioni, e viceversa, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, ma se Fofanà fosse arrivato due settimane prima, sarebbe stato amalgamato prima, ieri sera sarebbe stato utile. Allora, Fofanà al Milan è arrivato prima di Kuhnmeiner, sarà Juventus, ed è arrivato prima di Lukaku al Napoli. Nel senso che, cosa intendo dire? Non faccio polemica con Juventus e Napoli. Intendo dire che sul mercato possono esserci questi scogli e queste trattative. Ma bisogna saperci lavorare. Attenzione, lavorarci non significa voler risparmiare, voler dare la priorità ai conti. Perché questa è una folla sulla quale vorrei dire la mia. Perché qui si continua a raccontare un Milan attento ai conti e al bilancio, in realtà il Milan è sempre quello che spende più di tutti. Io sono convinto che alla fine di questo mercato, come già sta accadendo un po' adesso, adesso vediamo le cessioni della Roma, alla fine di questo mercato, fra entrate e uscite, chi avrà speso di più in questo mercato sarà sempre solo il Milan. Come un anno fa. Poi, oltre a spendere di più, dobbiamo anche sentirci dire come spendere e no. Perché se per Emerson Royal ci chiedono 25, e alla fine chiudiamo a 15 più bonus, è meglio chiudere a 15 più bonus che a 25. Su Morata praticamente ci avevano chiesto di pagare a rate a 16, abbiamo pagato cash in un'unica soluzione a 13. Su Pavlovich ci avevano chiesto 25, abbiamo chiuso a 18 più bonus. Su Fofanà ci hanno chiesto fino a due settimane fa 35, e abbiamo chiuso a 20 più bonus, più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, gli altri meno facilmente raggiungibili. E quindi questi sono i soldi che ha speso il Milan, ma oggi, ad esempio, grandi società che sono state elogiate perché hanno scelto l'allenatore bravo, quello giusto, al momento giusto, non hanno la testa sgombra sul mercato, l'abbiamo visto anche nelle conferenze stampa di ieri, mentre Giorgio Furlani ieri prima della parita col Torino poteva dire dal punto di vista del mercato, sto parlando di mercato, non della parita della parita, abbiamo già parlato prima, poteva dire noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso siamo alla finestra per eventuali opportunità, occasioni, situazioni, siamo qua, siamo qua lucidi, pronti e reattivi, perché tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. ci sono altri club con grandissimi dirigenti, super elogiati, super citati, che invece devono ancora fare quello che devono fare, e quindi non hanno la possibilità di avere questo atteggiamento sgombro e sereno di esame di tutte le situazioni, delle opportunità di qui in avanti, e quindi da questo punto di vista, da questo punto di vista, rimarchiamo le certe differenze. Dice, la parita di Jovic dal primo minuto ha ricordato quelle dell'anno scorso, bisogna prendere un'altra punta. Io, per carità, ripeto, tutte le opinioni, poi anche le mie opinioni, daranno modo ad altri di non essere d'accordo con me, quindi ognuno dice la sua, ma l'Ocafor di ieri sera, siamo ancora convinti che non possa fare in alternativa a Morata e Jovic la prima punta nel Minad. Abbiamo tanti esterni, tanti, e l'Ocafor rischia di giocare poco, ancora meno rispetto all'anno scorso, eppure il rapporto minutaggio-gol per lui è altissimo, perché l'Ocafor non può fare la prima punta? Il gol ieri sera col Torino non è un gol da prima punta, l'Ocafor. Perché dobbiamo per forza svilire, da un certo punto di vista dobbiamo valorizzare quelli che abbiamo in rosa, però li sviliamo perché vogliamo sempre l'ome nuovo, per mettere pressione, per grattare la pancia ai tifosi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, queste sono un po' di cose alla rinfusa che vengono in mente, questa mattina mi scriveva mio caro amico su WhatsApp, le grandi squadre vincono senza subire gole, noi prendiamo troppi gol. Io spero che mettendoci a posto questo accada sempre meno, però è un tema. ieri Zlatan Ibraimovic ha detto Manu Kone lo stiamo seguendo, Manu Kone è ancora più mediano di Yusuf Fofanà. E, insomma, questa caratteristica del Milan, di essere un po' troppo pendulo al momento di prendere gol, di essere un po' troppo malleabile al momento di prendere gol, è un tema che può far parte del nostro mercato di qui al 30 agosto, perché io non so se bisogna passare al 4-3-3, io non so qual è la strada giusta, perché anche il 4-2-3-1, se ben calibrato, se ben dosato, se ben equilibrato, può rendere una squadra più impermeabile. Però è chiaro che in questo momento noi tutti, dopo la scorsa stagione e dopo l'inizio di questa, veniamo, non dimentichiamolo, da noi l'unica partita in cui non abbiamo preso gol è stata quella con Real Madrid, partite estive, molto sui generis, ne abbiamo preso uno dal Rapid Vienna, due dal City, che comunque abbiamo vinto, due dal Barcellona, con cui abbiamo vinto i rigori, uno dal Monza, due dal Torino. Quindi questa cosa di prendere gol c'è e quindi mette, io credo che, io credo che ci sono alcuni giocatori della nostra squadra ai quali dobbiamo chiedere di più, Love to Chick Tomori, ma altri giocatori della nostra squadra che stanno crescendo. Reinders sta crescendo, Reinders, lo amo proprio, calciatore. Musa sta crescendo, quindi Okafor deve crescere ancora, e lo può fare se gli diamo spazio. Certo, se gli tappiamo le aree e prendiamo un altro, tenendo conto che a livello di prime punte c'è un ragazzo che anche ieri ha timbrato due gol contro il Novara, Francesco Camarda, ma lì ci sarà tempo, tempo e modo. Per cui, insomma, io non so se si debba giocare a 4-3-3, non lo so, però certamente questa cosa di prendere gol prima o poi, con le buone o con le cattive dobbiamo togliercela. Io ho visto nel primo tempo di ieri il tentativo della squadra di essere più ordinata, più corta, più compatta, però a questo tentativo tattico non abbiamo aggiunto spirito, non abbiamo aggiunto frenesia, non abbiamo aggiunto elettricità. partita un po' insulsa e senza anima, scriveva al Corriere della Sera questa mattina, io quando scrivono così del mio Milan alzo subito la guardia, però in effetti, in effetti, in effetti nel primo tempo è stato così. Poi ci hanno detto male anche gli episodi, perché se tu vai sull'1-0, su quel calcio d'angolo, salvataggio sulla linea, tap in, palla alta, già cambia, poi sull'1-0 le hausolo davanti al portiere, le occasioni di Pulisic sull'1-0 clamorose, poi il rigore che comunque secondo me non c'era e che non è stato dato, poi il contropiede che prendi quando sei sbilanciato, quindi anche gli episodi ci hanno detto male, però noi abbiamo fatto poco onestamente ieri sera per rivelarci agli episodi, quindi dobbiamo con il crescere della condizione dei big, con l'inserimento dei nuovi che arrivano dal mercato andare verso verso la nostra identità, però è chiaro che se dovessero esserci delle uscite fra Calulu, Adli e Pobega, andare a mettere altra garra difensiva nel nostro centrocampo potrebbe essere, come alludeva ieri Zlatan Ibrahimovic, una buona idea, staremo a vedere. grazie a tutti i nostri